Uno, via! Capo la partita! È partita dall'Aquila la Run for Hope, primo e unico giro podistico solidale a staffetta che attraversa l'Italia da capo a piedi. La partenza dal capoluogo per le staffette regionali che vedranno una soddivisione in tappe giornalieri che rappresenteranno una frazione del percorso complessivo. La quota di partecipazione della corsa va alla Fondazione AERC per la ricerca sui tumori femminili, in quanto Run for Hope sostiene la propria organizzazione mediante i propri sponsor o donatori. La manifestazione rientra nel calendario di eventi Rinasci con lo Sport, Promuovere l'Aquila con lo Sport 2023, organizzati in Abruzzo dall'SD Atletica Abruzzo, l'Aquila, in collaborazione con l'esercito e altre società d'atletica della regione, testimonial della staffetta è Margherita Magnani, ex campionessa italiana di mezzofondo, olimpionica. Il primo troncone partito dall'Aquila arriva a San Gabriele, mentre domani la tappa arriva a Martinsicuro per proprio eseguire per tutto l'Abruzzo, sino ad arrivare al 14 maggio. Oggi è una bellissima iniziativa di sport dove c'è una fusione, un'unione di intenti tra le associazioni sportive dell'Atletica Abruzzo dell'Aquila, insieme con l'esercito italiano che collaborano per questa magnifica staffetta per risolvere il problema dei tumori per le donne. L'amministrazione comunale è vicina a questa iniziativa, è inserita nel cartellone dell'Aquila rinasce con lo Sport 2023 e noi siamo pronti sempre come amministrazione comunale a sostituire tutte le iniziative, sia sportive sia sanitarie. Noi siamo sempre vicino alle attività di solidarietà e oggi parteciperemo sia con l'organizzazione logistica di questa forza e con degli atleti del Comando Militare Esercito Abruzzo e Molise che parteciperanno alla corsa.